strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di strategia digitale oggi rispondiamo alla domanda di marco il quale mi chiede in maniera molto molto simpatica vi farete delle risate alla fine della sua domanda come poter utilizzare al meglio il tempo degli spostamenti in auto naturalmente utilizzando il digital a nostro favore prima di sentire la domanda dalla viva voce di marco voglio ringraziare come sempre i nostri produttori comincio da quelli più grandi roberto andreoni nicolò ravanelli federico izzi paolo pugni vittorio neri andrea della via e molti altri sotto di loro perché questi ascoltatori di strategia digitale un bel giorno sono passati dall'altra parte sono diventati proprietari produttori di questo podcast che porta ogni giorno nelle vostre orecchie tutto il meglio della strategia digitale di come possiamo utilizzare il digital in maniera intelligente per migliorare in meglio la nostra vita e il nostro lavoro e allora grazie a loro e grazie a tutti coloro che tra di voi vorranno diventare magari oggi stesso produttori di questo podcast farlo è facilissimo basta andare su you media web punto com slash finanzia e decidere l'importo della vostra del vostro finanziamento in che modo vorrete diventare produttori ma ora non poniamo più tempo in mezzo e scopriamo insieme la domanda di marco ciao giulio sono marco qualche tempo fa in una puntata del podcast avevi parlato del santino quel chip che disattiva le funzionalità del telefono mentre si guida mi piacerebbe ora avere il tuo parere la tua esperienza su come invece il digital ci può accompagnare in maniera sicura durante i nostri tragitti in auto aiutandoci per esempio a rimanere connessi con i nostri contatti oppure con le nostre passioni quindi internet of things virtual assistant entertainment impiego costruttivo del tempo di spostamento e quant'altro grazie uè gaudiano ma io quando guido vado già a caccia di pokemon mica mi interessa ascoltare il podcast o fare altro ciao giulio grazie grazie a te marco mi hai fatto morire con questa invitazione sei veramente fantastico devo dire una cosa che è stata notata da paolo pugni per il mio compleanno ho ricevuto tutti gli auguri che anzi l'ottanta percetto degli auguri iniziavano con uè gaudiano il che vuol dire che qua il milanese analogico e imbruttito si sta sta acquisendo una fama quasi maggiore a quella del sottoscritto ragazzi banda le ciance la domanda di marco è molto interessante intelligente perché molti di noi ancora non si sono liberati o comunque lo devono farlo per lavoro non si sono liberati dicevo dal fastidio di fare lunghi tragitti in automobile lunghi spostamenti parlo in particolare dell'automobile perché quando ce ne andiamo in giro il digital è diventato un intrattenimento fantastico siamo in treno in metropolitana in autobus andiamo a piedi e il digital ci aiuta moltissimo a utilizzare bene questo tempo il fatto è che quando mi devo spostare in macchina addirittura molti amano spostarsi in macchina lavorare viaggiando da un posto ad un altro io per esempio amo invece star fuori dal traffico e quando proprio mi devo spostare mi sposto in bicicletta almeno di non poter fare almeno di altri mezzi bene quindi molti amano stare in mezzo al traffico e amano utilizzare quel tempo per come diceva marco restare in contatto con alcune persone vedere anzi ad ascoltare dei contenuti allora vi dirò un pochino quello che consiglierei ad un amico ora io marco non è che sono un super esperto di tecnologie per le automobili anche perché come ti dicevo non amo tantissimo proprio l'automobile in sé devo dire che la mia prima figlia ha preso da me questo odio per per l'automobile tant'è quando ogni volta ci dobbiamo spostare no non voglio andare in macchina ecco io sono un po simile a lei in questo allora come faccio io a utilizzare in maniera produttiva il tempo che passa in macchina primo di tutto marco l'ha citato ma ve lo ripeto ho maturato una grande consapevolezza rispetto a quanto si è sbagliato utilizzare il cellulare alla guida penso che siamo su questo tutti nella stessa barca inutile fare i moralisti o i duri e puri ah io non ho mai fatto penso che tutti siamo soggetti al fascino e al richiamo dello smartphone il fatto è che molti perdono la vita perché vengono investiti da qualcuno che sta utilizzando lo smartphone oppure loro stessi stavano utilizzando lo smartphone e fanno un incidente allora questo è un tema molto importante io ci sono arrivato piano piano sviluppato una consapevolezza piano piano e ora devo dire che conoscendo quanto è forte il richiamo dello smartphone proprio lo nascondo disattivo le notifiche lo spengo cioè faccio di tutto per fare in modo che non mi possa richiamare l'attenzione mentre sto alla guida e tra le cose che faccio c'è anche quello di utilizzare lo smartphone per fare qualcosa di altro rispetto al ai suoi richiami sulla chat o sul messaggio di turno per esempio lo utilizzo tantissimo come navigatore e utilizzando ways oppure lo utilizzo come diciamo media station come luogo per avere accesso a dei contenuti che posso fruire durante il mio viaggio ed è proprio di questo di cui parlerò non sono un amante delle smart delle auto radio smart cioè quelle che in maniera indipendente si collegano fanno perché perché fondamentalmente questo problema è risolto dal fatto che posso collegare il mio telefono il mio smartphone all'auto radio via bluetooth quindi utilizzare l'auto radio come un amplificatore quindi non sono un fanatico di grandi tecnologie a livello di auto radio ma se l'auto radio la tua auto radio ha il bluetooth tu fondamentalmente col tuo telefono appena entri in automobile lo puoi collegare e utilizzare l'amplificazione della della macchina in alternativa e secondo me ancora più comodo c'è la possibilità di utilizzare un auricolare io ho delle cuffie bluetooth che amo particolarmente ma attenzione in questo senso attenzione a utilizzare le cuffie alla guida perché l'auricolare si è consentito ma non è consentito l'utilizzo di due cuffie che blocchino le orecchie tutte e due le orecchie perché non deve essere ridotta la capacità uditiva cioè non devi fare in modo che mentre stai ascoltando il tuo podcast preferito magari strategia digitale non riesci a sentire il suono della sirena di un'ambulanza che deve passare o non riesce a sentire il rumore di una macchina che sta arrivando dal dall'altro incrocio quindi la tua capacità uditiva non deve essere ridotta e va bene occupare una sola orecchia questo è anzi un solo orecchio questo è il modo di risolvere questa cosa per cui io utilizzo delle cuffie bluetooth della sennheiser che sono sempre le stesse con quelle vado a correre sono molto leggere si appoggiano sull'orecchio ma non lo chiudono quindi lasciano passare i rumori esterni quando sono in macchina sollevo una delle due cuffie l'appoggio diciamo sulla testa invece che sull'orecchio in modo da tenere un orecchio libero che sia auricolare o che sia autoradio io trovo più comodo l'auricolare perché mi permette di continuare la conversazione o continuare l'ascolto dentro e fuori dall'automobile classico caso è quello quando vai a fare la spesa entro in macchina attacco la puntata del podcast di turno digitalia per esempio tanto per fare un saluto agli amici digitalia e a franco solerio e attacco digitalia arrivo al supermercato e poi continuo ad ascoltarlo anche scendendo dalla macchina e passando nelle corsie del supermercato e prendendo i vari prodotti e magari continuo ad ascoltarlo quando ho pagato e me ne sono me ne sto ritornando a casa in questo senso l'autoradio invece non avrebbe non mi avrebbe consentito di ascoltare il mio podcast anche fuori a prescindere dal device che volete utilizzare fondamentalmente per me i tragitti sono comodi per i per le seguenti funzioni numero uno telefonare anzi numero zero pensare quindi io addirittura lancerei la l'assenza del digital durante il durante la guida perché perché molte volte riflettere su un problema focalizzare un argomento sul quale ho bisogno di tirar fuori un pensiero originale per esempio ascoltare un messaggio di su una richiesta d'aiuto da parte di un cliente prima di entrare in macchina e poi proprio spegnere il telefono mi dà la possibilità di far lavorare quella macchina molto più potente di qualsiasi macchina digitale che il mio cervello durante il tragitto quindi direi consiglio zero pensare riflettere consiglio uno parlare parlare con le persone avviando la chiamata tramite auricolare prima ecco può essere un ottimo tempo per parlare addirittura c'è chi sul diciamo durante il tragitto in automobile ci fa i podcast mi pare filippo toso ecco mi pare che filippo abbia utilizzato abbia fatto un mark un podcast sul marketing realizzato durante i suoi tragitti in automobile nelle varie province venete per cui quello può essere anche un'idea carina no utilizzarlo per produrre addirittura contenuto magari alla guida potresti perdere il focus e allora può essere comunque buono per parlare fare meeting naturalmente con le mani libere il secondo livello può essere ascoltare dei podcast ascoltare i podcast per me è una risorsa eccezionale perché ci sono podcast di tutti i tipi podcast di trattenimento podcast formativi allora l'ascolto di un podcast può essere la soluzione ideale per impiegare bene il tempo del tragitto in automobile effettivamente molti di voi ascoltano strategia digitale alla guida addirittura ci sono podcast grazie ai quali puoi imparare le lingue quindi quello può essere anche quello un'ottima idea un'altra possibilità anzi qualcosa che invece non vi consiglio scusate anche se può sembrare utile è utilizzare telegram io lo facevo utilizzavo telegram ascoltando i messaggi vocali ma poi mi sono accorto che diventa un richiamo per guardare lo schermo perché anche se telegram manda in autoplay messaggi vocali funzionalità che invece whatsapp non ha quindi su questo telegram vince ogni tanto cioè non sempre le conversazioni avvengono solo via messaggio vocale quindi se c'è basta un messaggio testuale che l'occhio ti va sullo schermo e ti porta poi a guardare quel messaggio allora in questo senso l'utilizzo di telegram non lo consiglio o almeno se l'ho consigliato in passato oggi non ve lo consiglio più una terza possibilità è utilizzare audio audible audible è la piattaforma o diciamo diciamola all'italiana audible o audible è la piattaforma per audiolibri audiobook di proprietà di amazon amazon ha lanciato questa piattaforma che funziona con una subscription ne ho parlato in un souvenir digitale qualche mese fa sostanzialmente paghi 9 euro e 99 al mese provandolo per i primi 30 giorni gratuitamente puoi scaricare questa applicazione sul tuo smartphone e ascoltare tutti gli audiolibri che vuoi si trovano si cominciano a trovare audiolibri interessanti non solo di intrattenimento ma anche pure qua formativi io per esempio da pochissimo ho realizzato l'audiolibro per mio ultimo libro youtube per il business tra poco sarà disponibile pure quello su audible per cui può essere positivo io in passato ho utilizzato audible in varie volte per ascoltare libri diciamo anche più tecnici non solo di intrattenimento quindi se non altro la possibilità di accedere alla versione audiolibro mi dà la possibilità di formarmi sì come il podcast ma di formarmi su un contenuto più strutturato avendo la versione in capitoli avendo anche delle estensioni più lunghe il mio audiolibro per esempio saranno 3-4 ore di registrato almeno io registrato per 3-4 ore per cui una volta impacchettato nei vari capitoli con con tutto il condimento di divisori audio e il resto viene insomma un contenuto bello lungo che puoi utilizzare puoi ascoltare un'intera settimana magari durante i tuoi oppure durante i viaggi lunghi questo senz'altro quello che è importante secondo me in tutto questo è fare in modo che il tempo che usiamo guidando il tempo che passiamo in automobile non sia un tempo sprecato ma sia un tempo produttivo l'ultima l'ultima nota marco la faccio su quelli che hai suggerito tu cioè i virtual assistant i vari siri e tutte le compagnia bella secondo me ancora il virtual assistant non ha non è riuscito arrivare al livello di poterti consentire di utilizzare solo la voce lo dico essendo un ex fanatico di siri della dettatura vocale a parte non so voi che cosa ne pensate di siri ma mi sembra sia sempre peggiorato mi ricordo il siri che funzionava offline andava molto meglio di quello online a me non non ne coglie una comunque ancora l'assistente virtuale non è arrivato a darci la possibilità di dialogare con con lui senza bisogno di smartphone perché fa sempre qualche erroretto ed è quello il momento in cui è pericoloso perché se voglio fare una cosa voglio scrivere una nota te l'ha detto e poi tu non capisci bene devo correggere una parola è quello il momento che poi prendo l'iphone prendo lo smartphone di turno e con le e correggo una cosa a mano diventando diciamo esponendomi a un pericolo ancora maggiore rispetto a quello del provare a utilizzare lo smartphone con la voce quindi telefonate podcast e audible e direi o audiobook e direi che ne abbiamo abbastanza visto che audible va pure offline in galleria ne abbiamo abbastanza per intrattenerci durante tutti i nostri viaggi siamo arrivati alla fine di questa puntata grazie marco per la tua domanda vi ricordo che per mandarmi tutte le vostre domande per iscrivervi al podcast per consigliarle ai vostri amici per vedere come si nasce una bella recensione e lasciarla se non l'avete ancora fatto il luogo dove potete andare è strategia digitale punto info li trovate tutta la pagina dedicata al nostro podcast e voglio leggere una recensione visto che tanto che non le leggo spero di non aver perso il segno ce n'ho una di vn10 che è intitolata come il vino buono fantastico naturalmente riferendosi al nostro podcast seguo giulio da tanto tempo ormai e posso dire che è proprio come il vino buono più passa il tempo e più migliora non solo a livello tecnico ma anche anzi soprattutto a livello umano con una capacità unica di saper parlare sia al cuore che al cervello impossibile non seguirlo e allora ragazzi se è impossibile non seguirci fatelo sapere anche i vostri amici andate magari mandagli un bel messaggino oggi ho ascoltato un bel podcast strategia digitale punto info facciamo crescere questa nostra comunità di amanti del digital ma soprattutto amanti di un utilizzo ragionato intelligente del digital per migliorare la nostra vita e il nostro lavoro per oggi è tutto grazie mille a Sara Veltri codice del podcast al nostro fonico costanza mineo e a radiospeaker.it curatore del nostro sound design grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano